Ragazzi, la miniatura di oggi è stata fatta da Samuele Colombini, ovvero Sam Arkham Art, fa disegni a pagamento se volete passate dal suo Insta. Ragazzuoli cari, bentornati ad un nuovo video sul mio canale. Oggi siamo qui per portare la dodicesima puntata di Dragon Ball Prime 2. Prima di iniziare però, come al solito, voglio darvi delle notizie importanti. Chi ha visto anche il video di ieri, dove parlavamo di Godex e della sua situazione, ha anche ascoltato, credo, che domenica voglio registrare due video con una ragazza. Niente, io spero che vi piaccia. Avevo intenzione di fare qualcosa su Xenoverse con lei, non so, magari fagli e sceglie i bei personaggi a lei, brutti a me, e giocavamo. Io ovviamente giocavo con la tastiera, che sono mezzo un pedito con la tastiera, e lei col joystick, che è facile pure per mio nonno. E poi magari fare un FAQ o un'intervista doppia. L'intervista doppia non ne sarei troppo sicuro per il semplice fatto che l'attrezzatura che ho, come ad esempio il green screen, devo ancora provarlo bene bene. Comunque sia, ragazzi, io vi invito a lasciare delle domande qua sotto al video, che poi andremo a leggere mentre registreremo il video, che sia o un'intervista doppia o un FAQ. Certo, se è un'intervista doppia poi le adatto io. Comunque sia, basta l'hashtag FAQ e noi andremo tranquillamente a rispondere, così per me è più facile, ragazzi, ci mettere dell'hashtag Trovalle. Possibilmente, ragazzi, fatele meno sconce possibili, perché comunque per una ragazza che è la prima volta che viene sul canale, dopo... no, in realtà ce n'è già stata una, che però comunque è l'ex mia, ma sti gran cazzi, non me la culo più. Vi chiedo solamente di non fare domande sconce, ecco, perché non credo che le prenderò in considerazione. Però, roba intelligente, roba che mi fa durare video, così posso monetizzarlo. O meglio, posso mettere pubblicità. E niente, ragazzi, detto questo, iniziamo a parlare di Prime. Abbiamo visto che, l'ultima volta, purtroppo, Noctis ha invaso la Terra. Piccolo sta combattendo contro Tarles, Vegeta è ancora svenuto a Terra, e Goku sembra che abbia ucciso Radish. Sarà così? Il gruppo di Bra, invece, è finalmente riuscito a portare Gideon a riparo. Mentre vediamo Noctis, Okra e Toma, che rispettivamente si preparano a combattere Ghast, Zyko. E niente, ragazzi, detto questo, vi lascio al video. Tarles sta portando alle strette Junior, cercando in tutti i modi di farlo stancare di contrattaccare, aumentando sempre di più la sua velocità. Junior è preso veramente alla sprovvista dagli attacchi di Tarles, che continua a colpire con le sue combo rapide, senza avere intenzione di fermarsi. Il Namecciano, allora, fa esplodere la sua energia, guadagnando tempo. Non avrei mai immaginato che Saiyan d'Elite significasse avere tutto questo potere. Goku, avendo sconfitto Radish, sta osservando il combattimento, fin quando non nota che Tarles, a sua volta, ha percepito qualcosa. Per un momento, Tarles si ferma e, anziché concentrarsi su Junior, guarda da tutta altra parte. Il Namecciano, sentendosi messo da parte, allora, ne approfitta per caricare il suo maganco sappo, un colpo che, nella posizione in cui si trova Tarles, diventa letale. Dalle macerie, però, in quel momento, sbuca Radish ferito, con una velocità sbalorditiva, senza neanche dire nulla, si porta davanti a Junior e, prima che il Namecciano possa lanciare il maganco sappo, gli stacca di netto il braccio con un colpo potentissimo. Goku a quel punto si arrabbia e prova ad intromettersi, ma Tarles lo blocca avvisandolo. La tua morte, per il momento, verrà solamente rimandata. Radish, andiamo. E prendi nappa con te. Il nostro signore sembra essere arrivato. I tre Saiyan, quindi, se ne vanno, dando moto a Goku di soccorrere i suoi compagni. Alla capsule Corporation cala il silenzio. Sembra, infatti, che le ferite di Gideon non siano curabili dalle incredibili tecnologie ultramoderne di Bulma. Bra cade nello sconforto totale, mentre il resto del gruppo sente le aure malvagie di Noctis e il suo esercito. Bulma convince tutti quanti a rimanere alle capsule Corporation al sicuro, raccontando ai ragazzi tutto ciò che sta accadendo in questa dimensione. No, non è possibile. I Korgoniani sono sempre stati un popolo pacifico. Non avrei mai immaginato che uno di loro avesse potuto fare una cosa simile. Ma tu come lo sai? risponde Pan ad Aiden. Io sono un Korgoniano, e tentando di utilizzare bene il mio potere mi persi tra le dimensioni. Trunks è l'unico che non riesce a stare con le mani in mano, e allora decide che mentre attenderà insieme a Goten si focalizzeranno sull'aumentare la durata di Gotenks, il quale, per questa guerra, potrebbe rivelarsi fondamentale. In quel momento Goku torna alla capsule Corp con Junior e Vegeta sulle spalle. State tranquilli, hanno solo bisogno di riposo. Bulma, comunque, come procede il potenziamento di C-17 e C-18? Bra scoppia in lacrima alla domanda, e Bulma prende Goku da parte e gli spiega che ha messo in pausa i lavori, proprio perché sta tentando di salvare la vita di Gideon, ormai appesa ad un filo. Goku è incredulo. Lo stesso Gideon, il quale in passato aveva combattuto Amorch e Broly di quinto livello, tenendogli anche testa, Goku, allora, decide che non starà con le mani in mano, e mentre aspetterà i suoi amici che si riprenderanno, aiuterà Goten e Trunks ad utilizzare al meglio la fusione. Gast e i suoi due guerrieri sono sul procinto di iniziare una battaglia. Ehi, Gast, come vuoi vedere crepare i tuoi figli? Tutti insieme o uno alla volta? Io direi uno alla volta. Così, prima posso godere nel vederli soffrire, e poi posso strapparti quelle antennine. A me sta bene, tanto i miei ragazzi non avranno problemi contro i tuoi guerrieri. Zyko sta per avvicinarsi ad Okra, ma Chroma lo ferma, poggiando una mano sulla sua spalla. Lascia che ci pensi io, fratello. Sul pianeta Korgon sono riuscito a colpirla, o almeno ci sono riuscito quando quel potere misterioso, il potere misterioso, non sai come e quando ti aiuterà. Poi ricorda, quando noi Saiyan veniamo sconfitti, torniamo più forti di prima. E soprattutto, io non utilizzavo neanche il 100% delle mie possibilità. È arrivato il momento che io mi prenda la mia vendetta. rispondendo in modo sicuro a Chroma, Zyko arriva faccia a faccia con Okra. Librandosi in aria con lei, poi sprigionano un'energia potentissima, in grado di ostruire la vista a tutti i presenti. Appena si scorge qualcosa, tutti quanti riescono a vedere Zyko e Okra combattere alla pari. Io non ci credo. Okra teneva testa a Zyko, Super Saiyan di quarto livello, durante la sua forma base. E adesso sono alla pari. Ghast sorride. Sai Noctis, forse non lo sai perché il vostro sangue Saiyan è inquinato, ma quando un Saiyan si riprende dopo aver sfiorato la morte, il suo potere aumenta a dismisura. Che cosa? Perché non ne ero a conoscenza? Zyko lancia colpi imparabili verso Okra, ma anche la ragazza è abile, e schiva con difficoltà ma senza farsi colpire. Il Saiyan con le corna allora si fa sotto utilizzando serie di tecniche veloci che colpiscono l'avversario dall'alto verso il basso. La ragazza, tra una schivata e l'altra, viene colpita, e prendendosela, contrattacca Zyko con colpi durissimi. Poi, ancora una volta si allontana, e tenta di nuovo il suo colpo finale. Zyko stavolta si prepara a riceverlo in posizione di difesa. Quando l'attacco di Okra impatta, la terra trema e un rumore fortissimo ruggisce tra i presenti, seguito dallo scoppio energetico. Le polveri alzate dall'impatto si spostano. Zyko non vi è più. Anche il terreno sembra non aver subito danni. A questo punto Okra si volta verso Noctis, e con un'occhiataccia gli fa capire che le sue preoccupazioni erano futili. Lo stesso attacco non funziona due volte su di me. Hai abbassato la guardia. Zyko è ancora vivo, e prende di sorpresa Okra, facendole pagare cara la sua superbia. Adesso, per la Saiyan, è molto difficile ricomporre la sua guardia. Anche perché Zyko continua a infierire sul suo corpo con una velocità innata. Te lo avevo promesso che mi sarei vendicato, e adesso sparisci. Delle sfere di energia colpiscono Okra, facendola sparire nelle esplosioni. Ma proprio quando sembra che la ragazza stia per cedere, fa esplodere la sua aura e allontana i colpi energetici di Zyko. Saiyan, io ti giuro, che per quello che mi hai fatto, ti strapperò le corna con le mie stesse mani. L'aura di Okra sembra ingigantirsi, e il suo potere genera onde d'urto che scoppiano a contatto con l'aria. La fuligine data dallo scontro sparisce. Vieni avanti ora, dimostrami la tua vera forza. Se non sarà abbastanza, ti lascerò a terra, ferito a morte, e davanti ai tuoi occhi ammazzerò Chroma, in modo che tu possa soffrire ancora di più, vedendo il tuo fratellino crepare. Zyko è spaventatissimo, ma non demorde. La sua paura, infatti, si trasforma in ira quando viene minacciato Chroma. Ok, brutta strega, ora faccio sul serio. Anche su Korgon non ho dato il massimo, tutto quanto per un fattore sorpresa. Ora preparati, nessuno tocca la mia famiglia. Ragazzi, la puntata è finita qui. Abbiamo visto un combattimento epico tra Zyko e Okra che, sinceramente, ancora deve iniziare alla fine. Diciamo così, è stato un piccolo pezzo di ciò che vedrete. Mi scuso se questo episodio non è stato veramente molto lungo, ma, sinceramente, sta settimana, io abito in una zona del cazzo, raga, praticamente la corrente va e viene quasi tutti i giorni. Quindi avevo paura che non sarei riuscito a portarlo a termine o magari che qualcosa mi crashava. Vabbè, detto questo, io ringrazio Feraz, Masco e Buras per avermi dato le mod per realizzare questa puntata. Spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e non dimenticate di attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video. E noi, come al solito, ci vediamo ad un prossimo video. e noi, come al solito,